ciao sono gabriela e in questo video ti faccio vedere come fare questi manici rotondi che io ho usato per questa borsa ho usato filato greta di tre sfere cotone ecologico riciclato e uncinetto numero 3 cominciamo con 6 catenelle che poi lavoriamo tutto a punto basso un po' di più E ora facciamo altri 11 giri con punto basso. Ok, ho fatto 12 righe a punto basso, ora dobbiamo chiudere con un punto e poi lo lavoriamo così in tondo. Questo pezzo praticamente sarà quello dove infiliamo il cerchio, quello degli alluminio, e poi lo cuciamo. E poi quello cuciamo alla borsa, quindi facciamo un punto basso con l'ultimo e primo, uniamo insieme. E poi andiamo a lavorare ogni punto, si vede ogni buchino, a punto basso. E poi andiamo a lavorare ogni volta. E sempre 6 punti facciamo. E poi andiamo a lavorare ogni volta. E poi andiamo a lavorare ogni volta. e poi andiamo a lavorare ogni volta. Andiamo a lavorare ogni volta. E poi andiamo a lavorare ogni volta. quindi continuiamo per 42 cm in tondo a lavorare a punto basso a 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 ok sono arrivata a 42 cm di tubolare ora vediamo che lato è e e ora semplicemente facciamo solo senza andare in tondo torniamo torniamo indietro a 6 punti 1 2 5 4 5 e 6 6 7 8 8 9 10 5 quindi invece andare tondo torniamo indietro e facciamo altri 11 altre 11 righe quindi 12 totale Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Se ti è piaciuto questo video, metti un like e iscriviti al mio canale per non perdere altri video. Ci vediamo in un altro video. Ciao!